Siamo venuti in questo nuovo video, oggi siamo su Blacklet e siamo in compagnia di Overboard 2000 E oggi andiamo a giocare contro DBM che ci insultano come dei pazzi e alla partita No, no, Vienme, Vienme, no Camper, no, che camper crescente, mamma, camper No, no, the hacker, uno di vita, uno di vita Ah, che, che ha qui Sì 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 Guarda Adno Sì 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 Non c'è problema ma guarda che scassi guarda livello 3 sono livello 3 schi 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 come questo è vero un pochino se l'incontro si distrutterebbe già il canale a fare lì e l'abbiamo visto OPS 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 Ma cosa? Ma tu mi hai prima toccato tutta la vita e poi mi hai dato un colpo con la pistola leggera come ti chiami OPS 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 ma non ce ne uccidevi io stavo parlando io stavo parlando con con il mio fratello piccolo si io stavo parlando con mio zio poi dopo perdi e aspetta una cosa poi dopo perdi e dici che stai usando solo la pistola va di là di là e poi qua poi è arrivato è sotto è là è là attento prendilo prendilo aaa nabba, nabba, nabba oh è sotto, è sotto, è sotto è sotto ooooh eeeh la zai duu ooooh 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 da me da me da me da me comprati le cuffie ooooh ooooh da me da me ooooh da me da me ooooh ooooh nooooh sparalo 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 si si ne ho andato tutti in due bravo ma sei suonarissima meno me ne piaci e che non sparalo stazione Manu Manu da sopra da sotto vabbè vabbè guarda a livello 3 ti uccide livello 3 pure lui è livello 3 è vero non dire sempre le stesse cose grazie e la è sotto, è sotto oh sta arrivando da te NANDE 4 punti di ultimo David 4 punti di ultimo David tutti tutti c'è raga per farvi capire le persone sto in gioco cioè come sono accanite e comunque ah non vi basta la seconda sconfitta ah e comunque raga ehm guardate sul canale di hoverboard 2000 ma che si chiama Manu de Rosa come vi ricordo sempre e guardate la seconda parte di questo ehm questa rivincita del BM questa rivincita del BM infatti e raga spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima è 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